Il governo valuta un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi. L'idea è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più al rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli comuni. Si valuta una deroga che dia a chi abiti in paesi sotto i 5.000 abitanti la possibilità di spostarsi entro i 30 km. Le deroghe sugli spostamenti potrebbero interessare così oltre 10 milioni di italiani che vivono in piccoli comuni, che sono circa il 69% del totale dei comuni italiani. L'ipotesi è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla Merkel in Germania, per evitare la terza ondata. La preoccupazione esplosa dopo le immagini circolate negli ultimi giorni dei vari centri cittadini invasi da persone. Con le riaperture sono tanti i cittadini che ne hanno approfittato per fare shopping, affollando negozi e gallerie, un comportamento che, in realtà, è stato lo stesso governo a favorire per dare uno slancio all'economia e rianimare il commercio. I preoccupanti assembramenti, misti a rigore manifestato da altri paesi europei, potrebbero quindi portare ad un'improvvisa, quanto incoerente, inversione di marcia. Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19, scrive il Premier Giuseppe Conte su Facebook. La nostra comunità nazionale, pur tramite le difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto, continua il Premier, che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane in occasione delle festività natalizie.